Ringrazio come sempre il buon Fabio per la linea, do il benvenuto ai nostri ascoltatori, quinto appuntamento con Arche, la rubrica di approfondimento culturale di Border Nights, do il benvenuto a Gianluca Marletta, mio compagno di viaggio in questa avventura che insomma sta procedendo bene. Gianluca, vedo anche i commenti positivi sul canale YouTube di Border Nights, tra l'altro vi invito a iscrivervi sul canale e a mettere dei commenti sotto i vari podcast, ci fa piacere sapere cosa ne pensate, ma appunto Gianluca ti dicevo, le prime quattro puntate hanno avuto un buon seguito e anche degli apprezzamenti, questo ci fa molto piacere. Buonasera a tutti. Gianluca, allora questa sera abbiamo scelto un titolo molto ambizioso, che cos'è l'esoterismo? E per cercare di rispondere a questa domanda abbiamo un graditissimo e preparatissimo ospite, che è Carlo Corbucci, Carlo Corbucci che è collegato di Già, lo salutiamo. Ciao Carlo. Buonasera a tutti. Dicevamo Carlo Corbucci, avvocato, romano di adozione, è un esperto di cultura islamica e medio orientale ed è studioso di dottrine esoteriche e spirituali. E' autore tra l'altro per i tipi della Irfan edizione di René Guénon e Ipin Arabi è di Islam, sunnismo e sciismo dalla prospettiva metafisica iniziatica all'esoterismo integrale. E allora dicevamo, Gianluca e Carlo, che cos'è l'esoterismo? Io devo confessarvi che oggi pomeriggio nel far mente locale, insomma prepararmi alla trasmissione per poter dare a voi l'abbrivio su quelli che sono i temi, poi in dettaglio le domande che vorrei porvi, sono andato un po' in confusione, nel senso che effettivamente è difficile rispondere a una domanda del genere. Mi veniva in mente una citazione di Roberto Calasso nell'ardore quando appunto rileva come nel Veda si parli del culmine della conoscenza esoterica come coincidente con, diciamo così, la massima confusione, non che io abbia raggiunto il culmine della conoscenza esoterica, pertanto insomma la mia confusione, ma probabilmente il mio grado di confusione è pari al mio grado di conoscenza della materia che pure insomma frequento da moltissimi anni, da quando ero pressocchi ragazzo. Però, dicevo, forse è più facile dire, Gianluca, che cosa non è l'esoterismo a questo punto? Beh, intanto dobbiamo fare una sorta di scrematura, perché poi il concetto di esoterismo, adesso poi approfondiremo, anche il termine stesso esoterismo, come molti termini nelle lingue moderne, finisce poi per logorarsi e oggi esoterismo è diventato il sinonimo di tutto quello che potrebbe essere un po' desueto, mettiamolo così, coincidente di fatto con il vasto campo dell'occultismo nella mentalità, diciamo, e nella percezione e nell'immaginario collettivo, che in realtà sono due cose radicalmente diverse, che hanno ben poco a che vedere l'una con l'altra. In realtà lo stesso termine esoterismo è un termine relativamente moderno, come sostantivo, sto dicendo, perché come contenuto naturalmente è antichissimo, è antico come l'uomo, ma, ad esempio, nella tradizione cristiana, poi vedremo più avanti, erano in uso già dal tempo della patristica gli aggettivi esoterico ed esoterico per indicare interiore ed esteriore, ma non il sostantivo esoterico, che appunto, ripeto, penso che abbia massimo un 200 anni, insomma, come termine. Molto più utilizzato, invece, era il termine, il concetto di ignosi. Anche ignosi spesso e volentieri viene confuso con l'ognosticismo, c'è una serie di scuole comunque fiorite in ambito sia ebraico, sia cristiano, sia classico, ma ignosi, nel senso più stretto, indica la conoscenza e non una conoscenza di tipo riflesso, cioè di tipo mentale. Ecco, questa è una cosa già fondamentale. Cioè, uno potrebbe aver letto migliaia di libri sull'esoterismo, sulla ignosi, sulla conoscenza e non aver acquisito nessun tipo di conoscenza, perché la conoscenza di cui qui si parla, o comunque di cui, per esempio, nel caso specifico del cristianesimo, parlavano i padri della Chiesa e poi i padri orientali, fino a giorno, è identificazione, quindi divenire ciò che si contempla, divenire ciò che si contempla. Non è semplicemente una conoscenza mentale, ma è una trasformazione dell'essere in ciò che si contempla. E approfondiremo comunque questo argomento. E poi magari con te approfondiremo il discorso relativo alla tradizione cristiana, così come con Carlo parleremo della tradizione islamica. Però in preambolo a Carlo volevo appunto chiedere, Gianluca ricordava come il termine stesso esoterikos si riferisca a una conoscenza interna ad una tradizione, vale anche per la filosofia greca. Io ad esempio ricordo che delle opere di Aristotele noi conosciamo quelle esoteriche, cioè quelle rivolte agli allievi del liceo, e quelle invece esoteriche, cioè quelle esterne, quelle che le lezioni, insomma, le opere che venivano rivolte a una più ampia fetta di auditori, insomma, sono andate perdute. Ecco, quindi voglio dire, al di là di quella che è la cristallizzazione del termine esoterico per individuare una certa corrente spirituale, comunque dico, è facile cadere nell'equivoco. Ma come termine, diciamo, di partenza, dal quale si può discendere poi con le successive considerazioni, dobbiamo dare per scontato che tutte le forme tradizionali, tutte, quindi le forme tradizionali intendiamo il cristianesimo, l'ebraismo, l'islam, l'induismo, sono essenzialmente duplici nella loro natura e nel loro aspetto, hanno una dimensione religiosa e una dimensione metafisica. Quella esoterica è quella che riguarda soprattutto i principi metafisici. Che vuol dire? Praticamente, questo discorso che sembra un po' contorto, ma che in fondo è molto semplice, cosa vuol dire? Vuol dire che certi insegnamenti, certe conoscenze, certe consapevolezze, non appartengono a chiunque. Non tutti gli uomini hanno la medesima esigenza e la medesima capacità intellettuale, qui non parliamo di fede o di sentimento, parliamo di capacità intellettuale di comprendere i principi di carattere universale e metafisico. Alla, diciamo, a quella che può essere definita la massa, la stragrande maggioranza degli uomini, è riservata la religione, intesa come quell'aspetto esoterico della conoscenza. Non è un'altra conoscenza, un'altra dottrina, è l'aspetto più esteriore e formale di quelli che sono i principi di carattere metafisico che riguardano la vita e l'esistenza dell'uomo e quindi i misteri della vita e dell'esistenza. Per farla ancora più semplice come distinzione, ma più semplice per modo di dire, possiamo dire che queste due prospettive hanno poi due conseguenze fondamentali. La via esoterica, quindi la religione, riservata alla stragrande maggioranza degli uomini, che possono comprendere solo di riflesso certe verità di carattere universale, deve condurre l'uomo alla salvezza. Che cos'è la salvezza? È, tecnicamente parlando, nel linguaggio esoterico, la conservazione dello stato umano, della natura umana, così come si trova nella dimensione corporea e psichica, priva unicamente dell'aspetto corporeo. Quindi dal punto di vista conoscitivo, l'essere non aumenta di un briciolo della sua conoscenza e della sua capacità di elevazione interiore. La salvezza quindi congela l'essere umano nello stato in cui si trova in vita. E questo è il destino riservato dalla religione alla stragrande maggioranza degli uomini. L'esoterismo invece attiene alla via iniziatica. Cos'è la via iniziatica? È quella via attraverso la quale l'uomo si prospetta di superare la natura e la condizione umana con tutte le sue limitazioni e con tutte le sue caratteristiche. Cosa significa questo? Niente di magico, niente di superumistico. Parliamo di dimensione interiore, cioè l'intelletto che è nel profondo di tutti gli uomini ma che rispecchia soltanto in pochissimi di loro perché nella stragrande maggioranza degli uomini agisce soltanto il sentimento e al massimo una debole ragione. Bene, la dimensione della realizzazione spirituale dell'approssimazione agli stati superiori del proprio essere perché l'uomo è composto di una molteplicità di stati dell'essere che vanno dalla condizione umana alla condizione angelica, arcangelica fino a quella che gli hindù definiscono la liberazione e nel mondo islamico è definita l'identità suprema con che cosa? Con il principio. Quindi è chiaro che tra salvezza e liberazione c'è un'immenso distinzione perché la liberazione attiene a una realizzazione dell'essere umano nella sua dimensione più profonda che è quella dell'identità con il proprio principio trascendente e metafisico con il proprio se per usare un'espressione diciamo così tratta dalla tradizione hindù ma che si applica a tutte le altre tradizioni. Quindi già da questo si comprende che si tratta di due vie completamente diverse anche se contenute in un'unica tradizione perché un testo sacro contiene sia l'aspetto esteriore che interiore contiene sia l'aspetto della salvezza che l'aspetto della liberazione non esistono due rivelazioni o due verità la verità è una ma la capacità degli uomini di approssimarsi e di comprendere la verità nella sua integralità quella non appartiene a tutti e l'appartiene a chi è qualificato dal punto di vista intellettuale e a chi sente l'esigenza di conoscere il proprio se e non di conoscere soltanto la propria anima o il proprio io. Ecco io ti ringrazio Carlo per questa illustrazione chiarissima e cristallina di quello che appunto sono le due vie però in quanto studioso dire ne che non pongo l'attenzione su un punto perché non è questa è una questione molto dibattuta sia da chi ama che non sia da chi un po' lo contesta il discorso della assoluta necessità di praticare anche un esoterismo nonostante si sia su una via iniziatica e quindi esoterica perché che non su questo punto era inamovibile. Ma non è che non che è inamovibile che non è inamovibile in tanto quanto tutte le tradizioni alle quali lui si rifà e dalle quali trae la dicettimazione di quello che afferma perché altrimenti sarebbe un filosofo che ha le sue opinioni sul mondo iniziatico tutte quelle tradizioni fanno obbligo a chi si avvicina a una qualunque di queste tradizioni di aderire a quelli che sono i riti anche esteriori nell'induismo per esempio che è una delle vie più elevate dal punto di vista metafisico facciamo perdere gli aspetti esteriori parliamo della Vedanta parliamo del Vedanta Dovaita parliamo delle tradizioni delle conoscenze più profonde del Vedanta e dell'induismo bene, nell'induismo Shankara Shankaracharya che è appunto il maestro considerato più elevato dell'esposizione dottrinale e metafisica in ogni suo testo nel quale introduce l'argomento della discriminazione tra il sé e il non sé lo introduce sempre con un inno alla divinità cioè perché se la divinità in un certo senso è vista come una figurazione della realtà universale e spirituale come una una sorta di antroposorfismo di antropomorfismo mentre in realtà il principio è al di là di ogni limite di ogni aspetto diciamo umano non è un essere il principio è l'essere no? e allora perché lo stesso Shankara introduce con gli inni con gli atti che apparentemente sembrerebbero di adorazione e perché nel sufismo quindi nel mondo islamico è addirittura obbligatorio che chi percorre una via iniziatica deve comunque ubbidire alla sharia cioè alla legge sacra che è imposta dal Corano a tutti gli esseri umani ma che non risponde giustamente con una frase molto semplice perché chi aspira al più deve essere in grado di fare il meno innanzitutto secondo chi non pratica la disciplina di carattere sharaitico e quindi chi non applica su se stesso i doveri e gli obblighi di astinenza da tutto quello che si direbbe in termini moralistico religiosi peccato ma che in realtà è ciò che allontana dall'integrità dall'integralità e dall'unità e ti butta ti getta nella dispersione e nella molteplicità allontanandoti quindi dalla realizzazione bene se non si aderisce a una disciplina che in qualche modo ordina la tua nasse il tuo aspetto individuale non 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 fai non non compi quella quell'operazione di concentrazione interiore nelle aspetti universali e derivati del tuo essere cioè non conoscerai mai il tuo sì ecco perché viene sempre affermato in tutte le tradizioni la necessità di una pratica di carattere esoterico fatta non con un'attitudine esoterica ma fatta con l'attitudine di chi deve conoscere anche quegli aspetti nei loro significati superiori torneremo poi a parlare della tradizione islamica intanto Gianluca addentriamoci in quello che è il solco invece della tradizione cristiana questo rapporto di cui parlava Carlo in questo ambito è sicuramente più complesso ci sono molte più nuance soprattutto così una lettura magari superficiale però in parte vera ha visto una scissione tra quelle che sono le dottrine esoteriche che sono state in pratica come dire custodite dagli ordini cavallereschi e successivamente dalla massoneria mentre invece ad esempio nello specifico della tradizione cattolica insomma si fa difficoltà a ravvisarvi un diciamo così un aspetto esoterico cosa diversa magari nel cristianesimo ortodosso dove con l'esicasmo invece questa questa impronta diciamo è abbastanza abbastanza marcata proviamo a dipanare un po' questa 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 complessità Gianluca allora intanto rilacciandomi a quello che diceva Poganzi Carlo Corbucci c'è una espressione diciamo abbastanza nota di San Simeone il nuovo teologo un teologo bizantino teologo assinoriente non è il laureato all'università di storia delle religioni d'accordo cioè teologo è chi ha sperimentato e comunque ha raggiunto determinati stati San Simeone in questo senso si intende proprio il centro del cristianesimo stesso il mistero cristiano in quanto tale ma profondamente diverso è l'approccio del semplice fedele diceva e quello dell'ognostico ora questo termine gnostico che poi spesso in occidente è diventato è stato equivocato cioè in oriente è stato sempre utilizzato normalmente senza particolari problemi il problema innanzitutto è questo innanzitutto la differenza tra la prospettiva esteriore e quella interiore non è sempre identica in tutte le tradizioni cioè l'approccio non è sempre identico ci sono alcune tradizioni dove faccio un esempio l'ebraismo cioè la differenza tra il cammino esoterico chiamiamolo così la Kabbalah per esempio e l'Alakab che sarebbe la legge è assolutamente categoricamente separato diviso è evidente che chi pratica la Kabbalah deve rispettare le leggi dell'Alakab ma le due cose sono assolutamente separate in altre tradizioni diciamo questo tipo di rapporto è più sfumato in un certo senso anche nel buddismo stesso e anche nel discorso del cristianesimo perché quando parlavamo poco anzi di questa espressione di questi due aggettivi esoterico e esoterico che spesso vengono utilizzati nei padri della chiesa perché non viene utilizzato un sostantivo perché in realtà si sta parlando in qualche modo di un'unità di prospettive diverse di una stessa cosa esteriore la pratica religiosa è spesso e volentieri esteriore perché in qualche modo si rifà a un oggetto a un oggetto tra virgolette o maiuscola naturalmente che è visto fuori da se stesso e quindi è esteriore in questo senso io attraverso una serie di regole di leggi di precetti di riti mi appropinco mi avvicino a questo oggetto che rimane un qualcosa di altro da vivere la prospettiva esoterica invece questo alcuni padri della chiesa lo dicono chiaramente è il diventare ciò che si contempla per fare una metafora se vogliamo immaginiamoci un sistema solare con al centro il sole la divinità è il sole che riflette i suoi raggi ovunque la salvezza è in qualche modo entrare nel campo gravitazionale del sole e quindi poter beneficiare chi più chi meno chiaramente perché anche tra i salvati c'è una girachia enorme come in tutte le cose beneficiare dei riflessi del sole ma il cammino interiore significa diventare il sole è la famosa zeosis come la chiamano i padri orientali come tuttora in oriente nell'oriente cristiano viene chiamata insomma un termine molto forte da un punto di vista teologico divinizazione letteralmente significa diventare dio assumere la natura della divinità identificarsi con il principio divino sul discorso dell'occidente oriente del cristianesimo questo è un discorso molto complesso che sulla presenza o sussistenza di una possibilità di tipo metafisico nel cristianesimo è forse è forse diciamo un tema difficile da affrontare in radio devo essere sincero ecco tu hai citato l'esicasmo sicuramente però ecco diciamo è una faccenda abbastanza complessa sicuramente ripeto all'interno di una tradizione c'è sempre c'è sempre la possibilità di percepire e vivere ecco l'aspetto anche interiore però Gianluca è stato chiaro insomma nei secoli come chi avesse questo anelito verso insomma la realizzazione e quindi verso una via iniziatica non abbia bussato alla porta delle chiese ma piuttosto come dicevo agli ordini cavallereschi e recentemente negli ultimi secoli alla porta della massoneria beh faccio un esempio comunque i famosi ordini cavallereschi di qui sopra faccio un esempio per i templari i templari erano in larghissima misura una manifestazione particolare di alcuni ordini monastici ma ci sono anche i rosa croce e sì lì andiamo in un ambito ancora più controverso se vogliamo però Gianluca non ti sentiamo più dovresti avvicinare mi senti? sì adesso la spiritualità cavalleresca nell'ambito cristiano è sempre stato strettamente legata alla spiritualità monastica quindi in qualche modo è stata un'emanazione se vogliamo di un certo tipo di monachesimo nel caso specifico dei templari per esempio il rapporto con i cisterciensi abbastanza noto a partire già da San Bernardo di Chiaravalle quindi diciamo la cavalleria forse è più conosciuta da questo punto di vista perché poi diventa la protagonista di tutta quella serie di opere di carattere chiaramente iniziati come sono i racconti del Graal della tavola rotonda ma ricordiamoci sempre che la stessa cavalleria cristiana è una manifestazione una manifestazione nel nel mondo in realtà di un contesto che è monastico monachesimo e cavalleria sono in una certa misura una stessa via che si manifesta in due forme Carlo torniamo a parlare di di Islam ecco nella tradizione islamica invece la via iniziatica è quella segnata dalla dalla sufismo però anche in quel caso il rapporto tra esoterismo ed esoterismo quindi tra sufismo e religione islamica non è sempre stato ottimale nel senso che spesso i sufi sono stati anche isolati magari quando diciamo così non erano diciamo assoggettabili a quello che poteva essere una quello che poteva essere un uso politico anche della religione innanzitutto facciamo subito una precisazione sul termine che è stato usato poco fa che diventare fra virgolette diventare Dio indiarsi attenzione nessuna cosa può mai diventare un'altra di carattere superiore se non è già quella cosa e allora questo cosa implica metafisicamente parlando perché qui qui dobbiamo capire che la metafisica è quella quell'elemento discriminatorio che fa veramente l'evidenza di una verità non è una fede cioè non è l'uomo Dio è Dio che è anche l'uomo intanto in quanto il più contiene il meno non è il meno che contiene il più che cosa significa poi tradotto in termini di concetto metafisico al di là di questa immagine che è Dio che anche è l'uomo che esiste una sola realtà i Tahuid l'unità dell'esistenza l'unità di Dio l'unicità dell'esistenza che cos'è è che esiste una sola realtà con la lettera maiuscola la quale si manifesta in una indefinità di stati intanto in quanto l'infinito contiene tutto quindi questa realtà che è la chiamiamola la possibilità totale che è il principio supremo ovviamente contiene in sé tutte le possibilità di manifestazione e di non manifestazione quindi tutti i gradi e gli stati degli esseri e quindi tutti gli esseri che che sono che si manifesteranno prima o poi che si sono già manifestati eccetera questo non significa che li contiene attenzione in senso un matematico numerico è evidente non siamo qui in una sommatoria si parla di qualità e non quantità esattamente questo è importantissimo ecco perché la metafisica e l'esoterismo non sono mai stati riservati a tutti perché nasce l'equivoco sui termini nasce l'equivoco per una incapacità profonda di elevarsi oltre i limiti dei sensi oltre i limiti del ragionamento umano e per venire alla intuizione intellettuale che è il lampo della contemplazione quindi quando diciamo appunto si realizza Dio in realtà si torna a quello che già si è ab eterno da sempre ovviamente diciamo non è che torno a fare se sono da sempre noi siamo da sempre tra virgolette nella mente divina come dice Platone per usare l'immagine di Platone noi siamo nella mente siamo gli archetipi nella mente divina quindi siamo ab eterno è chiaro che siccome la mente il principio eterno e la mente divina è necessariamente eterna come il principio noi siamo da sempre concepiti ecco un simbolismo cristiano della immacolata concezione noi siamo concepiti da sempre come possibilità nel principio poi però perché questa possibilità possa divenire da goccia dell'oceano a oceano è necessaria per gli esseri la manifestazione perché nella manifestazione gli esseri conoscono se stessi e riconoscono la propria origine ecco la conoscenza la conoscenza non è altro che questo riconoscere nel principio la tua origine e non nella tua individualità non nei fenomeni del mondo non in uno stato dell'esistenza particolare che è soltanto un'apparenza che è una minor realtà non è che un'illusione ma è una minor realtà perché la realtà reale vera totale è il principio ecco cos'è la liberazione del resto è la liberarsi di tutte le condizioni umane sovrumane che sono gli stati molteplici dell'essere gli stati angelici arcangelici degli approssimati che sono tanti veli che sono tante condizioni dell'essere la liberazione è la spogliazione totale di tutti quei veli è la realizzazione dello stato incondizionato è una vertigine folle quasi e questo è il vertice della metafisica il vertice della metafisica è la non dualità delle cose perché la realtà è una e unica è come che si dice nel monoteismo che Dio è uno qui si crea l'immagine c'è un Dio ma in realtà non esiste un Dio esiste Dio esiste l'essere e oltre ancora esiste l'assoluto che è anche addirittura al di là i postasi dell'essere quindi esiste come si può dire l'oceano infinito delle possibilità che sono racchiuse nel principio che è un principio attenzione consapevole e cosciente è la coscienza la consapevolezza la presenza l'assolutezza per eccellenza perché altrimenti andiamo in quel marasma diciamo nel quale speculano in fondo purtroppo una certa teologia cristiana che dice ah ma sì ma in fondo loro concepiscono Dio come un mare un magma un nirvana in realtà è assurdo questo è vero il contrario è il principio assoluto della presenza è il principio assoluto della consapevolezza della coscienza è Dio ma Dio nel significato vero e autentico del termine non un Dio è quel Dio che è anche in te che è in chiunque che è in ogni essere che è veramente anche nel sasso ma non perché il sasso è Dio ma in tanti in quanto è una manifestazione delle infinite possibilità del principio di Dio questa è la metafisica e questa è la conoscenza che si tratta di realizzare non con la mente perché con la mente vedi stiamo facendo metafisica con la mente in fondo possiamo fare gli schemi possiamo fare una rappresentazione mentale e concettuale più o meno adeguata perché poi in fondo si tratta di argomentazioni concettuali più o meno adeguate ma non necessariamente della verità contemplata perché la verità contemplata è realizzata e poi diventare la cosa stessa non solo pensarla e averla capita e già è difficile capire la dottrina metafisica in se stessa senza equivocare quando poi l'hai capita beh adesso si tratta di diventarla nemmeno di diventarla di riscoprirla in te perché non si diventa come diciamo prima mai nulla di ciò che già non si è quindi si tratta di realizzare o poi tornando invece ecco sì Carlo diciamo che dopo questo escursus profondissimo che tu hai fatto la mia domanda si diluisce a questo punto vorrei riportarti visto che sei autore anche di un volume in cui specificatamente associ Rene Gennon a Ibn Arabi il più grande poeta sufi insieme a Rumi a Tardine Shapur ecco qual è la specificità della tradizione esoterica dei sufi ma l'Islam e quindi il Corano e quindi la tradizione islamica ha in se stessa i due aspetti esoterico ed esoterico quindi il tasauso nel modo diciamo più completo che possa concepirsi in una rivelazione poiché non siamo nel campo della pure metafisica come può essere in un aspetto della tradizione hindù ma siamo in un campo riservato diciamo a una massa di uomini è un momento del ciclo cosmico particolare il Corano deve rivelare entrambi i due aspetti bene il tasauf il sufismo è contenuto nell'aspetto più interiore più intimo del Corano e trae la sua legittimità dal Corano se non trovasse rispondenza nel Corano non sarebbe legittimo non sarebbe recito però è anche illecito dire che il Corano è tutto quello che soltanto possono capire gli esoteristi perché sarebbe una limitazione terribile della volontà divina della conoscenza dell'intelligenza di tutto quindi in realtà il sufismo è quell'aspetto interiore e intimo quindi ilziatico esoterico della della dottrina la dottrina che poi è identica dovunque è la stessa dottrina metafisica che è nell'induismo è la stessa dottrina metafisica che è nella vera gnosi cristiana degli origini perché poi l'ha perduta purtroppo il cristianesimo che è nella cabala che è nel taoismo che è nello zen che è in quelle tradizioni metafisiche ed è dovunque necessariamente perché la verità è una è unica se non trovasse riscontro in tutte le forme tradizionali significherebbe che quella forma tradizionale dove non c'è riscontro non è di origine divina o quantomeno ha perduto completamente il suo contatto e allora perché mi chiedevi prima in un certo senso c'è una non un'ostività sì anche un'ostività come no a volte nell'aspetto esteriore esoterico dell'islam e nei riguardi di un tasauf perché c'è dovunque perché quando una tradizione è dentro di sé dipartita in esoterismo ed esoterismo fin quando i maestri e i sapienti di quella tradizione sono gli esoteristi sono i sufi sono i grandi sapienti i saggi che rappresentano anche l'autorità esteriore allora il problema non si pone quando invece si perde questo legame l'aspetto esoterico diventa arrogante ignorante innanzitutto e arrogante e diventa colluso con il potere diventa anzi confuso con il potere e a quel punto cosa succede? succede quello che è successo in occidente finiscono nel rogo addirittura quello che sono i rappresentanti del centro del mondo i templari finiscono per essere perseguitati quelli che sono i rappresentanti delle tradizioni ancora iniziati che in occidente come i fedeli d'amore e come tutte quelle organizzazioni iniziati di cui facevano parte tante gli altri perché l'ignoranza il sentimento il fanatismo la brava di potere e quindi questo va contro l'intelligenza va contro la vera esigenza spirituale di chi ricerca solo la verità e non altre cose e quindi questo è grande e la massoneria poi facciamo l'ultimo accenno alla massoneria cosa è successo poi in fondo nella massoneria all'interno della massoneria si sono rifugiati gli ultimi che erano scampati alle persecuzioni della chiesa i templari nei secoli successivi altre residui delle tradizioni iniziatiche che erano scampate alle persecuzioni della chiesa è evidente che all'interno della massoneria poi tu ritrovi dei residui diciamo rituali che parlano della vendetta dei templari che parlano dell'incontro con Irosa Croce perché lì dentro sono confluiti mentre la massoneria era semplicemente una associazione una organizzazione di muratori di liberi muratori di costruttori di templi e quindi aveva come scopo unicamente quello della realizzazione dei piccoli misteri era una scienza tradizionale un'organizzazione artigianale in senso iniziatico ovviamente del termine quando sono confluiti i residui però basata su precise conoscenze come la dottrina dell'ottava ad esempio su cui si invata la costruzione anche delle grandi cattedrali i collegi a fabrorum il pitagorismo anche alcune frange dell'ebraismo quindi cosa è successo che poi infine la massoneria quando si è trovata ad essere ad ospitare tutti questi rifugiati fra virgolette e si è trovata essa stessa essere perseguitata da un bigottismo da un'ottusità da un fanatismo di carattere prettamente religioso per forza di cose ha subito una degenerazione lei stessa perché sono andati a provocare all'interno di una organizzazione dove si doveva stare soltanto contemplazione e sul piano operativo soltanto realizzare quelle che erano la propria arte la propria opera realizzare i tempi adottare i metodi di realizzazione tipici di quella corporazione beh quando purtroppo tu cominci a perseguitare sul piano fisico i rappresentanti dell'esoterismo e quindi all'ultimo non rimassi solo i massoni è chiaro che provochi anche delle reazioni e quindi in queste reazioni tu costringe a esteriorizzarsi anche quell'elemento della esteriorizzazione di quell'elemento di carattere iniziatico rappresentato da quelle persone che invece cercavano altre cose e allora troviamo una massoneria coinvolta in che cosa? Negli aspetti rivoluzionari negli aspetti politici libertà fraternità legalità diventano un'altra cosa rispetto a quello che era il concetto iniziatico di queste di queste espressioni ed è successo quello che è successo sorte destino dell'occidente colpito nell'esoterismo colpito nell'esoterismo perché il destino dell'occidente perché l'uomo porta con sé in tutti gli ambienti dove va i propri limiti e non è che l'occidentale è il prodotto di una chiesa degenerata o di una massoneria estremamente ridotta sono questi due ambienti che sono purtroppo il prodotto poi di un uomo che già di per sé porta i germi di qualche cosa che è andato perduto da molti secoli Gianluca ecco magari verso la fine della puntata proveremo a parlare ancora della possibilità che anche il libero pensiero sia nato dal pensiero esoterico però sicuramente se parliamo di esoterismo iniziazione via iniziatica oggi ci viene da parlare anche di controiniziazione ci domandiamo se dalla Blavatsky fino ad arrivare al New Age degli ultimi decenni si possa parlare appunto di controiniziazione o più semplicemente di confusione domanda per te Gianluca ah ok no no stavo ascoltando sì in effetti c'è da rimanere rispetto anche su quello che diceva Carlo che chiaramente ha espresso un suo parere particolare su quello che è accaduto negli ultimi secoli in occidente ci sarebbe anche molto da aggiungere secondo me uno dei diciamo in qualche modo degli spartiacque della decadenza dell'occidente e anche in qualche modo la frattura tra sacerdotalità e regalità per esempio e indubbiamente indubbiamente la sopraffazione che a un certo punto la sacerdotalità ha operato sulla regalità d'accordo? che poi in qualche modo storicamente è stata la lotta per le investiture ma di fatto attinge diciamo a ragioni che sono molto più profonde e quello è stato probabilmente l'inizio vero della fine dell'occidente in quanto d'arte peraltro l'occidente come sappiamo benissimo indica il tramonto per cui in qualche misura l'occidente era anche tra virgolette destinato a essere anche la sede del tramonto in qualche modo della morte finale e quindi poi anche però anche della resurrezione insomma perché la fine di un ciclo è anche l'inizio di un ciclo nuovo insomma Carlo ha dato molti spunti sarebbe adesso difficile rispondere puntualmente a quello che lui ha detto davvero tanto però preferisco rispondere a questo punto no l'avevamo detto in un'altra complessa perché effettivamente si apre un ventaglio di argomenti esattamente ci sono molti argomenti che abbisognerebbero di una trasmissione ogni volta insomma rispondendo a te il discorso di quello che è successo in realtà poi negli ultimi secoli e mezzo questa sorta di rid di manifestazioni paras iniziatiche allora indubbiamente in gran parte dei casi noi stiamo parlando semplicemente di fenomeni occultisti di tipo sincretico cioè che cosa significa in qualche modo personaggi e figure che si creano si creano una loro via d'accordo quindi una via che è assolutamente disgiunta da qualunque tipo di flusso spirituale reale è una via che può mescolare vari elementi a piacimento insomma poi del creatore di sorta insomma abbiamo avuto la Blavatsky abbiamo avuto anche l'antroposofismo insomma tutta una serie di scuole di pensiero che attingono poi alla fine in maniera assolutamente sincretico proprio mettendo insieme elementi vari per creare diciamo uno zibaldone che in qualche modo dovrebbe funzionare chiaramente non può funzionare proprio perché è uno zibaldone cioè quindi non è una tradizione è una pseudotradizione una pseudoreligione o una pseudiniziazione a seconda dei casi elementi ripresi dall'Oriente dal cristianesimo da altre fonti da fonti tra i cristiani e via dicendo anche molto per esempio di un certo tardo ermetismo in realtà in larga misura degenerato a livello magico soprattutto che va a costituire appunto questo mare magnum semplicemente confusione o controiniziazione dovremmo anche spiegare che cosa intendiamo qui a questo punto controiniziazione controiniziazione è esattamente l'opposto di un'iniziazione cioè la realizzazione di tutti gli stati veramente inferi all'interno di noi stessi quindi la realizzazione delle possibilità e l'identificazione nelle possibilità inferiori quello che in un linguaggio teologico si potrebbe chiamare satanismo anche se satanismo chiaramente è un termine che poi risveglia tutta una serie di reazioni di tipo emotivo qui stiamo cercando di spiegare le cose in maniera forse un pochino più tecnica in qualche caso indubbiamente all'interno di questi zibaldoni entrano in gioco forse di un certo tipo e questo mi sembra abbastanza evidente ne abbiamo parlato anche in precedenza in altre puntate come anche questa sorta di pseudo iniziazioni alla fine e alla lunga possono nascondere delle possibilità piuttosto pericolose e questo dipende naturalmente da chi poi mette le mani in pasta in determinati contesti che sono pseudo rituali però possono avere una loro pericolosità sostanzialmente in questo tipo di mondo c'è una grandissima confusione in realtà tra la dimensione spirituale che non è conosciuta con la dimensione psichica cioè quindi si manovra all'interno del mondo psichico nella migliore delle ipotesi cioè quando non si tratta semplicemente di cialtroneria e basta si manovra all'interno del mondo psichico il mondo psichico non ha nulla a che vedere con il mondo spirituale di per sé il mondo psichico è il mondo dei ritmi è il mondo animico è il mondo sottile un mondo estremamente complesso un labirinto in un certo senso dove è facilissimo perdersi ed è anche estremamente facile perdersi e dove perdersi può significare tante cose bruttine insomma può significare il proprio annientamento a livello individuale ma può anche significare il diventare strumento di forze e di volontà usiamo così questo termine che non sono più umane e che sono diciamo del tipo più pericoloso mettiamola così carlo quando si si accosta all'esoterismo ci sono una serie di autori che sono considerati insomma delle stelle polari abbiamo citato che non ma ci sono studiosi come Mircea Eliade il nostro Julio Sevola Arturo Reghini Ananda Kumaraswan più recentemente un altro italiano Elemir Zolla antropologo erudito ma che sicuramente aveva una conoscenza molto molto ampia di quelle che sono delle dottrine esoteriche sia d'Oriente che d'Occidente per tutti c'è comunque un problema di fondo che non nell'enunciare quello che sarebbe stato il lavoro di una vita poi aveva chiaramente detto che la sua ricostruzione della tradizione esoterica ortodossa se vogliamo utilizzare questo termine si basava esclusivamente sui testi sacri sappiamo poi che però ci sono state anche nel suo caso molte influenze penso per esempio a quanto abbia tenuto da conto testi come l'archeometra di Sant'Ivo Dal Vedre piuttosto che insomma altri testi e altri autori però dico siamo in grado oggi per quello che è lo stato anche di avanzamento dello studio delle lingue antiche di riconoscere una certa fissità a lingue come l'ebraico il sanscrito piuttosto che l'arabo classico guarda io volevo fare una piccola rettifica per un errore involontario che in quale era caduto Gianluca dicendo ma è proprio stato involontario intendeva dire lui che l'autorità potere temporale si era in qualche modo ribellato all'autorità spirituale aveva costituito un principio di quella decadenza dell'occidente non volendo l'autorità spirituale si è ribellata al potere temporale è chiaro che intendeva dire il contrario certo no solo per precisione insomma l'ho voluto dire appunto perché è chiaro che non è un errore che hai fatto era semplicemente un qui propò poi per quanto riguarda la contronizzazione ci sarebbe veramente molto da dire basterebbe osservare solo questo chiaro che se andiamo nel mondo dei fenomeni nel mondo delle potenzialità eccetera le tendenze controniziatiche è qualcosa di ben vasto che non può essere riassunto in poche parole ma una cosa deve essere detta la contronizzazione trova in alcuni individui strumenti di incarnazione e di elezione cioè esistono realmente esseri umani controniziati e questo va detto che svolgono una funzione ben precisa e che non intervengono quasi mai nella realtà se non in modo del tutto indiretto o utilizzando chiamiamoli così servitori che si prestano a fare una azione che la contronizzazione non svolge mai in modo diretto o quasi mai questo per dire che non parliamo di forze vaghe o di diavoletti nascosti eccetera si tratta di esseri umani ben precisi pochissimi pochissimi perché i conti iniziati sono pochissimi mentre gli pseudo iniziati sono molti detto questo torniamo all'altro discorso è vero che non apparentemente sembrerebbe avere svolto secondo i periodi della sua vita soprattutto da giovane molteplici come si può dire funzioni che apparentemente sembrerebbero a volte anche in contrasto fra di loro scriveva in riviste cattoliche e poi in realtà faceva parte dell'ambiente massonico dell'ambiente martinista eccetera eccetera bene tutto questo si irritava molto quando gli contestavano queste cose tutto questo è evidente è talmente evidente lui dice e lo riconosce nelle sue lettere intanto in quanto stava svolgendo una funzione c'è un personaggio che a 19 anni scrive un testo fondamentale fondamentale per gli hindù arrivo a dire arrivo a dire questo fondamentale per gli hindù che avevano subito il lavaggio mentale della Blavatschia via dicendo e dell'imperialismo inglese anche sul piano culturale come l'uomo il soddivinire secondo il Vedanta è qualche cosa di spaventoso cioè uno si deve chiedere ma questa persona chi era e questa persona che nello stesso tempo sembrava condividere alcuni aspetti dell'archeometra che è un testo insomma diciamo la verità apparentemente sul piano del linguaggio quasi patetico quasi pazzesco sotto certi aspetti paragonato al linguaggio e al rigore di un ganon e che sembrerebbe essere quasi in parallelo con le altre opere di carattere prettamente metafisico perché perché stava svolgendo e lo dice lui stesso quando era entrato anche in massoneria una funzione in occidente di tentativi di rettificazione in vari ambienti tentativi che nel caso del cattolicesimo sono falliti miseramente purtroppo per l'ostilità forte che era provenuta da certi ambienti dei cattolici nella massoneria ha trovato meno stilità perché per sua natura la massoneria ha un approccio più chiamiamolo così razionale meno emotivo meno emozionale e più come è quel termine che adesso mi sfugge siamo proprio veramente stanchi mentalmente col quale tu accetti le idee dell'avversario senza condividerle però diciamo sei buono con lui quindi diciamo che l'ambiente massonico era meno stile sotto questo aspetto non aveva motivo di esserlo mentre un ambiente prettamente teologico dicevi no no non ti abbiamo interrotto ecco quindi diciamo questa natura diversa ha provocato anche reazioni diverse mentre invece nel martirismo stato tacciato di tradimento perché non accettava le mitologie dei martiristi avevano delle pretese assurde che non era sotto questo aspetto perfettamente razionale non un razionalista ma perfettamente prettamente razionale che non poteva ammettere certi sogni e voli pindarici quindi ha svolto un po' funzioni varie basta sapere che il suo primo approccio con l'occidente è stato quello di scrivere testi anche se a rigore perdonami Carlo quello che io conosco della biografia di Guénon Guénon è stato perseguitato dai martiristi ci sono anche degli episodi abbastanza inquietanti in cui si parla anche di un periodo di coma per René Guénon di un altro episodio raccontato da un suo assistente adesso mi sfugge il nome insomma comunque ecco anche per Guénon ci sono stati tanti problemi qualcuno sostiene che al di là del ragionamento che stai facendo tu e che io condivido insomma l'opera di Guénon è un'opera di rettificazione però questo suo fuggire in Egitto sia stato dovuto proprio alle persecuzioni dei martiristi sì è sufficiente dire che non si è trattato tanto di un fuggire quanto di un andare per ristabilire dei contatti molto più diretti col sufismo e poi si è radicato avendo trovato l'ambiente adatto per continuare a svolgere la funzione da lontano ecco diciamo se viene inteso in questo senso è vero se ne va da un ambiente assolutamente ostile ottuso che era diventato qualche cosa ormai dove non doveva svolgere più nessuna funzione e che invece avrebbe potuto svolgere molto più intelligentemente e anche più profondamente dall'ambiente tradizionale dell'Egitto e come adesso ha fatto i testi più importanti sono stati scritti proprio da laggiù dove ha stabilito un rapporto più diretto col sufismo del resto già era ricollegato lui però diciamo lo era in maniera chiamiamola così segreta fra virgolette invece poi ti riporto alla domanda iniziale sulla fissità delle lingue quale elemento fondante di una qualsiasi ricostruzione delle dottrine e delle varie simbologie interne insomma le varie tradizioni esoteriche secondo te possiamo ravvisare dicevo alla luce di quelle che sono anche le recenti insomma dottrine linguistiche questa fissità ti chiedo scusa ho bisogno di capire se sarà un mio limite cosa intenti esattamente per fissità cioè il fatto che all'interno di una determinata grammatica di un determinato vocabolario noi ravvisiamo dei significati precisi per le parole che vengono utilizzate mi riferisco a quelle segnatamente dei vari testi sacri sia che si parli del Vedanta sia che si parli della Torah sia che si parli del Corano noi sappiamo io Carlo perdonami la domanda voleva insomma portarmi anche voleva portare il discorso anche verso un argomento che con Gianluca abbiamo già già toccato io ho visto che sulla tua pagina Facebook c'è anche un riferimento c'è un composto dedicato a Biglino è con tema di cui si discute molto in questi in questi ultimi anni il lavoro fatto da ricercatori come Biglino e da altri prima di lui probabilmente ce ne saranno altri ancora che si aggiungeranno mette in discussione c'è una sorta di strike nei confronti dell'esoterismo andando a demolire appunto questo concetto se l'ebraico specificatamente parliamo di Biglino se l'ebraico sia leggibile letteralmente che poi interpretabile in chiave allegorica simbolica eccetera allora insomma qualche problema lo si ravvisa perché si può legittimamente credere all'interpretazione che fa un esoterista di grandissimo livello come René Kenorna ma si deve tener conto anche di quella che può essere una lettura letterale che offre anche spunti di interpretazione assolutamente diversi o più che interpretazioni offre dei quadri insomma assolutamente diversi da quelli indicati dai grandi esoteristi se vedi tutte le lingue sia sacre che profane sulla base delle capacità intellettive intellettuali non intellettuali nel senso banale del termine ma intellettive degli uomini offrono una variegata serie di significati che sono legati alla maturazione stessa dell'uomo alla capacità dell'uomo alla sensibilità dell'uomo o alla sua autosità è evidente che anche nelle parole più semplici di una lingua come quella profana come può essere l'italiano moderno amore l'amore significa tante cose può significare l'amore divino l'amore sessuale l'amore gendere l'amore può significare qualunque cosa ed è un esempio banale che sto facendo tanto più ovviamente ci sarà radicato nel termine tradizionale berecit ci sarà radicato una serie indefinita di significati berecit il principio in principio ma è in principio in senso temporale può il Dio creò il cielo e la terra nel principio temporale ecco io proprio recentemente ho risentito un io ho letto diversi dei libri pubblicati da Mauro Billino però singolarmente ho risentito un brano di una sua conferenza in cui parla proprio del berecit dicendo che stando a quelle che sono le interpretazioni dei rabbini in realtà si vorrebbe indicare proprio l'inizio di un racconto l'inizio non della storia quindi non il principio delle cose ma specificatamente l'inizio di un racconto cioè questo racconto inizia così ecco diciamo ha legittimità anche un'interpretazione del genere beh se tu pensi che le favole le favole diciamo di Ender Secret o di che leggevamo da bambini iniziano con c'era una volta un re e quel c'era una volta un re non ha una valenza assolutamente temporale ma c'è c'era c'è e ci sarà sempre intanto in quanto quella favola di di Cappuccetto Rosso di Cenerentola trasmette un insegnamento che non è soltanto limitato a un tempo ma che è diretta al cuore dell'uomo per forza di cose che c'è anche c'era una volta nel passato ma c'era una volta che sempre e quindi questo è è proprio questo l'elemento discriminante che differenzia gli intelletti umani che differenzia gli uomini che differenzia quelli che sono qualificati per una via solo religiosa per una via iniziatica o per niente perché poi siamo andiamo anche nel nella squalificazione non solo di carattere iniziatico che in fondo può essere comprensibile ma anche di carattere religioso cioè nel momento in cui arrivi a un punto che non riesci più nemmeno a comprendere l'aspetto sentimentale di una cosa capisco che non si comprenda quello intellettuale ma quando arrivi a non capire più né quello razionale né quello sentimentale beh diciamo che può arrivare a essere anche una storia di 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 una nottata sessuale l'incontro delle che ne so del re Davide del re Salomone con con la regina di Saba cioè può essere anche interpretato come una notte di un incontro sessuale tutto può essere vero fra virgolette perché che cosa è la verità la verità è quella che a un certo momento si traduce dal massimo grado del principio da dove proviene che è il raggio solare il raggio spirituale il ruc lo sessuale che è la coscienza e l'intelligenza ma poi ci sono le attenuazioni i veri della coscienza e dell'intelligenza e di lì proveniamo veniamo dal dal massimo grado dell'intelligenza che è la buddi che è la che è il verbo fino al al verme il verme in fondo quando si dice anche il sasso fra virgolette è Dio cioè in realtà anche Dio è il sasso ma non è che viceversa beh è ovvio che Dio è dovunque vuoi che quindi non sia anche nella interpretazione tra virgolette di un biglino quando tratta di un testo sacro certamente vera anche quella si tratta di capire qual è la più vera la più conforme agli aspetti superiori dell'essere umano qual è la più vicina al principio qual è quella che ti conduce a riconoscerti in Dio o a riconoscerti nel nulla nel niente perché poi la continizzazione è anche questo cioè quindi biglino non che sia un continiziato perché forse sotto certi aspetti gli farei addirittura un 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 complimento perché il continiziato in definitiva è è fra virgolette un diavolo però in qualche modo per essere un diavolo è qualcuno quindi chi non comprende nemmeno il rovesciamento delle cose che fa non è nemmeno un continiziato però è un è un servo di elezione della continiziata senza rendersene conto magari è il primo ad essere diciamo vittima di se stesso vittima del della continizzazione cioè se non riesce a comprendere che è vero anche quello che dici certamente è vero però è il meno vero come è meno vero l'animale rispetto all'uomo come è meno vero l'uomo rispetto all'angelo come è meno vero l'angelo rispetto al avvicinato o al liberato addirittura quindi la verità è una ma esistono gradi della verità e questo si ripete in tutto si ripete nell'intelletto si ripete nella graduazione degli esseri che si manifestano si ripete in tutte le cose io personalmente credo che se il principio vuole manifestarsi può farlo anche nell'elenco del telefono quindi in linea sicuramente sono diciamo d'accordo ovviamente con quanto stai dicendo Carlo però credo che non voglio fare il difensore d'ufficio di Manguiglino che non ne ha bisogno anzi speriamo di averlo presto qui nella nostra rubrica per trattare questo tema che credo che sia meritevole di essere ulteriormente approfondito Gianluca ci abbiamo verso la conclusione dicevamo prima e c'è stata anche la giusta puntualizzazione da parte di Carlo parlavamo di controiniziazione ma più che altro negli ultimi decenni possiamo parlare di una demolizione della spiritualità a che pro lo vediamo anche in questo periodo in questa epoca di emergenza sanitaria quanto poco salda sia la gente quanto difficile sia mantenere un centro diciamo che a far da contraltare alla spiritualità e quindi all'esoterismo e all'exoterismo troviamo un po' una dissoluzione del sentimento e appunto della spiritualità stessa mi permetto un attimino di riprendere un paio di tematiche che sono state accennate riguardo il lino del Genesi a me ha sempre colpito devo essere molto sincero e non è assolutamente una questione personale ma mi ha lasciato anche a volte sconcertato alcune interpretazioni di Biglino su Genesi in particolare quali ad esempio la separazione delle acque superiori dalle acque inferiori identificata con una diga che degli esseri extraterrestri avrebbero costruito su un lago è evidente che come diceva appunto Carlo ci sono varie gradazioni di intelligenza però ci sono anche delle inversioni dell'intelligenza in qualche modo che alla fine definiscono una totale non verità ecco se vogliamo una negazione di una verità anche evidente ecco se vogliamo riguardo il discorso di che non il cattolicesimo io faccio una premessa ogni argomento che abbiamo toccato stasera ripeto meriterebbe una trasmissione a parte e alcuni argomenti volutamente almeno per quanto mi riguarda personalmente non ho voluto approfondirli proprio perché rischiavano di portarci veramente in vicoli da cui poi era difficile districarsi è interessante vedere però come all'epoca durante l'attacco duro che ci fu di una parte del mondo cattolico soprattutto del mondo più tomista quindi più legato a una tarda interpretazione di San Tommaso e quindi dell'aristotelismo verso che non in particolar modo Jacques Maritain questi personaggi qui che addirittura richiede Luca non ti sentiamo potresti riprendere il discorso della citazione di Jacques Maritain ecco di Jacques Maritain che addirittura chiese esplicitamente al Papa Pio XII di mettere all'indice il predigenon e Papa Pio XII allegramente nicchiò questa sua proposta è più facile di quanto molti pensino che in realtà all'interno del mondo cattolico Genon abbia avuto dei contatti piuttosto profiqui anche se estremamente minoritari e anche a livelli gerarchici di un certo livello insomma ecco mettiamola così anche con delle singole figure faccio un esempio forse già di una figura un po' più conosciuta come Silvano Panunzio che è stato poi un autore estremamente fecondo benché poco conosciuto dobbiamo dire del mondo cosiddetto tradizionale ma obiettivamente un autore illuminante cattolicissimo e nello stesso tempo straordinario interprete della tradizione anche se ripeto poco conosciuto magari rispetto ad altri come un Komaraswami o un Burkhart e via dicendo ritornando invece nello specifico alla domanda che tu hai fatto la dissoluzione noi oggi assistiamo a una dissoluzione per notare ormai di tutte le strutture spirituali di tutte le forme in qualche modo perché è il momento della dissoluzione delle forme in un certo senso il famoso Kali Yuga della tradizione Hindu rappresenta proprio l'annientamento delle forme di un mondo di un mondo non del mondo o della manifestazione ma di un mondo quale forma può resistere in un mondo di questo genere noi lo stiamo vedendo anche in questi giorni è difficilissimo anche per l'individuo riuscire a tenersi in piedi si tiene in piedi non chi con un giuro di volontà vuol tenersi in piedi ma si tiene in piedi chi è evidentemente ben agganciato alla roccia dello spirito e queste isole perché di isole in larga misura si tratta e di scogli sono quelle che dovranno resistere all'alluvione che in qualche modo tutto porterà via so che è una visione che non tutti condividono evidentemente però insomma il mondo della tradizione e tutte le tradizioni contemplano anche una fine di questo tempo e una fine di questo tipo di mondo non del mondo ma di questo tipo diciamo Gianluca il tema dell'ultima puntata di questa stagione di questa prima stagione di Archie che appunto sarà dedicata all'escatologia materia sulla quale tu hai scritto diversi diversi libri siamo arrivati veramente alla fine però io volevo chiedere a Carlo un'ultima cosa pregandolo di essere sintetico nella risposta modernità e spiritualità sono un binomio che difficilmente sta insieme oppure tu ravvisi anche i nostri giorni delle possibilità insomma di sviluppare sia sul piano esoterico che esoterico una legittima appunto una liberazione o realizzazione un individuo che sia veramente qualificato per percorrere una via iniziatica e che abbia delle qualificazioni intellettuali sufficienti può certamente affrontare tutte le difficoltà di un mondo esterno che si tratti del peggiore dei mondi moderni o anche che si tratti del più mediocre dei mondi tradizionali quindi è chiaro che questa è una possibilità che gli è data altrimenti non avrebbe possibilità di percorrere la sua via quindi e fa parte proprio delle sue possibilità delle sue qualità ma se andiamo invece a giudicare i principi sul piano dei principi indipendentemente quindi dalle possibilità degli esseri umani di certi esseri umani di poter vivere la loro vita in un certo ambiente allora sono assolutamente inconciliabili il materialismo con la tradizione l'evoluzionismo con la conoscenza cosmologica tradizionale la fisica particellare e il big bang con quello che è in realtà il concetto di unità espresso dalle scienze tradizionali e da tutte quelle dottrine tradizionali che costituiscono le scienze tradizionali non la degenerazione delle scienze tradizionali che era arrivata a immaginare la terra piatta ovviamente quelle sono delle degenerazioni che non hanno nulla a che vedere con le scienze tradizionali se quindi ci atteniamo al piano dei principi non c'è assolutamente nessuna compatibilità e sono delle illusioni quelli che ritengono di poter parlare del Tao della fisica o della cercando di trovare delle corrispondenze fra dati di origine tradizionali che esprongono tutti altri concetti metafisici e applicazioni cosmologiche con quelle che sono invece teorie o concetti di carattere prettamente fisico materiale legati comunque a una visione prettamente quantitativista della natura quindi su questo bisogna essere categorici però si può vivere da uomini tradizionali anche nel mondo moderno certamente questo sì bene mi ringrazio Carlo ti ringrazio tantissimo magari ci risentiamo nella prossima stagione per mettere a fuoco alcuni dei temi che questa sera siamo riusciti semplicemente così a denunciare senza entrare nel dettaglio naturalmente sarebbe stato impossibile Luca ringrazio anche te così come ringrazio i nostri ascoltatori vi do appuntamento alla prossima settimana buonanotte buonanotte grazie grazie a tutti